consiste nell'organizzazione che cos'è la magia bianca rossa nera e cerimoniale commento la magia bianca è lo svolgimento di invocazioni atte a combattere il male la preghiera è un atto di magia bianca la magia rossa è tesa a deviare il corso negativo degli eventi verso strade positive la magia nera fa uso nei suoi rituali di entità di bassa evoluzione o demoni la magia cerimoniale prevede una preparazione a livello iniziatico per creare potenti forme pensiero in effetti la magia è una sola e consiste nell'organizzazione tenace e passionale dell'energia pensiero